Il Consigliere Mario Cacciotti Il Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale La mattina di un venerdì alle 11.11 venivamo convocati per un Consiglio Comunale che si sarebbe dovuto tenere il lunedì successivo alle ore 10. Consideriamo che alle 12 l'ufficio protocollo chiude, il venerdì pomeriggio il Comune è chiuso, così come è chiuso nelle giornate di sabato e di domenica. Chiaramente noi in particolare abbiamo la necessità nel momento in cui veniamo convocati di avere del tempo a disposizione per organizzarsi il nostro lavoro perché come abbiamo già detto nel comunicato stampa, dal nostro lavoro comunque dipende il lavoro di altre persone. Ecco perché la mattina del 6 insieme al Consigliere Santucci ci siamo regati con urgenza dal Segretario Generale, il Dottor Andreone, rappresentando un'istanza, o meglio la nostra richiesta di bloccare quel litere di convocazione perché ritenevamo non giusto e non corretto convocare il Consiglio Comunale in questo modo. Richiesta di annullamento della convocazione che però non è stata presa neanche in considerazione visto che si è proceduto come previsto alle ore 10 ad aprire il Consiglio Comunale all'appello dei consiglieri per la verifica del numero legale. Unico consigliere presente? Il consigliere Gironami. Ecco che quindi successivamente alle ore 11.25 abbiamo ricevuto una seconda mail per la convocazione in seconda seduta prevista per oggi, questa sera, mercoledì 8 maggio alle ore 16.30. E gli altri vi chiederete voi perché il 6 maggio erano presenti solo il consigliere Gironami e è stato avvistato nel Palazzo Comunale anche il consigliere Poli? Gli altri sapevano bene che il consiglio non si sarebbe tenuto e questo lo diciamo in virtù del fatto che proprio il giorno successivo, il 7, è stato pubblicato sul sito del Comune un post che attestava la presenza del nostro sindaco in quel di Napoli dove partecipava come relatore in un progetto, in un convegno organizzato appunto presso la Scuola Politecnica di Napoli. Ecco perché quindi alla luce di questi fatti noi abbiamo ritenuto opportuno ricorrere e presentare istanza anche al signor prefetto di Roma. Abbiamo fatto la nostra istanza basandoci su aspetti giuridici, abbiamo sollevato un problema di natura giuridica ma in realtà il vero problema è un problema di natura politica perché riteniamo che non si possa procedere in questo modo. Per cui il giorno 7 abbiamo presentato istanza, siamo in attesa del pronunciamento del prefetto, indipendentemente da quello che sarà il suo pronunciamento. Comunque sia nella giornata del 7, nel pomeriggio del 7 alle ore 16 abbiamo ricevuto la nota del Presidente del Consiglio Stendardo, supportata anche la sua nota da pronunciamenti giuridici, giurisprudenziali a sostegno della sua tesi che però apre di fatto un problema di natura politica. Noi siamo partiti da un aspetto giuridico ma in realtà il problema è un problema di natura politica perché se è vero com'è vero che si deve garantire la massima partecipazione al Consiglio Comunale e se è vero com'è vero che le riunioni dei capigruppo si sono trasformate nell'arco del tempo in delle riunioni in cui si prendeva atto della data prescelta dalla maggioranza per svolgere il Consiglio Comunale perché ha detto il Presidente Stendardo che il Presidente doveva garantire prima il numero legale sostenuto dalla stessa maggioranza e quindi l'opposizione diventava come corollario, marginale. A questo punto noi ci chiediamo se era chiaro fin da venerdì 3 che la maggioranza non si sarebbe presentata in Consiglio Comunale la mattina del 6. Per quale motivo convocare il Consiglio? Per mettere in difficoltà l'opposizione? Oppure per mettere in modo quel giochetto che generalmente fanno i capi condomino, quelli più scalti, cioè faccio la prima convocazione di modo che abbasso il quorum e necessaria la validità della seduta per la seconda convocazione e nel caso specifico ricordo che il quorum è a soli 4 consiglieri presenti. Il Consiglio non è un condominio, il Consiglio è un'istituzione che secondo noi va rispettata sempre e soprattutto da coloro che si impassano la bocca sui valori democratici e sul rispetto delle istituzioni. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque sia lascio spazio anche ai consiglieri che potranno rafforzare quello che ho appena sostenuto. Diciamo che l'esposizione che ha fatto il Consiglio dei Gerardi è talmente esaustiva e precisa che è difficile integrarla da un punto di vista tecnico. Forse da un punto di vista politico qualche ragionamento in più però ve lo vorremmo offrire proprio per cercare da questo momento in poi di utilizzare questo strumento per far uscire un po' di più sulla nostra voce che in questi quattro anni probabilmente non è stata così incisiva come avrebbe dovuto. Vedete, nella risposta che Stellardo ci ha preparato, fa riferimento ad altri casi in cui il Consiglio Comunale è stato comunque convocato nei tre giorni e in questi casi l'opposizione non ha eccepito il poco tempo a disposizione per la convocazione. Ricordo non soltanto al Presidente del Consiglio ma a tutti noi che questo non è mai accaduto con i due giorni del sabato e la domenica di mezzo. Si può cercare di andare incontro al bene comune, al superamento di cavilli giuridici quando effettivamente c'è anche dall'altra parte la buona volontà però di costruire qualche cosa. Siccome purtroppo, e ve ne daremo conto anche con i verbali delle sedute di Consiglio e di Commissione, ogni qualvolta abbiamo chiesto la possibilità di poter capire meglio le motivazioni che spingono la maggioranza a scegliere di fare qualche cosa, perché è mancata in Commissione una comunicazione o perché gli altri non sono stati chiari o perché mancavano i documenti, è già stato risposto che a loro non importa assolutamente nulla che l'opposizione sappia o non sappia, perché comunque torna la maggioranza e le cose se le fanno per conto loro. Ecco perché è cambiato anche il nostro atteggiamento, ecco perché è facile chiacchierare e blagare di democrazia, di partecipazione, di aspetto corale delle decisioni, quando in realtà non siamo mai messi in condizioni di poter dire la nostra e soprattutto quello che noi diciamo molto spesso viene anche deriso e questo è indice proprio di mancanza di rispetto. Quindi noi siamo stufi di questo atteggiamento, abbiamo deciso di non soprassedere più, abbiamo deciso che le volte che siamo rimasti in Commissione per garantire il numero legale, anche quando la maggioranza era assente, perché pensavamo che fosse utile comunque anche per noi stessi comprendere alcune questioni, siccome questo non viene apprezzato non avverrà più. Nell'ultimo consiglio, quando loro non avevano la maggioranza e noi abbiamo saputo la motivazione per la quale mancava la maggioranza, ci siamo dispiaciuti del fatto che uno dei consiglieri non stesse bene, ma pur sapendo qual era la motivazione, abbiamo semplicemente rilevato che non sta all'opposizione di mantenere la maggioranza. A differenza loro, la volta precedente, quando era assente l'opposizione, nessuno si è apposto il problema che forse qualcuno di noi potesse avere una medesima situazione o una situazione anche più grave. Nessuno si pone il problema che probabilmente non tutte le persone possono prendersi un permesso dal lavoro, perché non tutti i lavori consentono di poter avere un permesso con tranquillità, perché non tutti hanno un lavoro a tempo indeterminato, non tutti hanno un lavoro sicuro, così come loro non hanno rispetto di noi e noi abbiamo sempre avuto rispetto di loro, da oggi in poi la posizione sarà sicuramente più rigida nel rispetto sempre delle persone, ma con molta più forza per quanto riguarda le posizioni e i ruoli. Ringrazio i colleghi di centrodestra per aver esposto quanto è il problema e l'hanno esposto in modo egregio. Pertanto non mi voglio ripetere sui vari inviti, sulle varie date, però un aspetto lo voglio marcare, che è l'aspetto politico. Mi riferisco al numero legale e parto dalla prima convocazione per la commissione lavori pubblici, dove noi dovevamo andare a discutere lo spostamento del Libia. Bene, in questa commissione mancava il numero legale, mancava la maggioranza e sia io che il collega Riccardo Nappo abbiamo garantito all'amministrazione sana la maggioranza perché volevamo porre delle domande tecniche per capire fino in fondo l'importanza di questo nuovo istituto. Mentre noi volevamo le nostre domande ci siamo sentiti dire che quella non era una commissione tale da poter porre delle domande tecniche e che noi come politici avremmo dovuto porre delle domande politiche, commissione tecnica. A quel punto abbiamo iniziato a fare delle domande politiche e l'assessore stizzito risponde dicendo che noi stavamo incalzando troppo. Bene, non avendo avuto risposte sia io che il consigliere Nappo ci siamo alzati e è mancato il numero legale, pertanto la commissione è venuta meno. Ci invitano, come hanno detto prima i colleghi consiglieri, a presentarci in consiglio comunale con pochissimi giorni di preavviso, andiamo a discutere i punti all'ordine del giorno e ci troviamo nuovamente lì lo spostamento della sede del Libia. Bene, salta il consiglio comunale perché mancava anche qui per la seconda volta il numero legale e prima di abbandonare gli scranni io stesso chiedo di poter effettuare una nuova commissione perché era importante chiedere ad un tecnico quello che noi dovevamo chiedere. La commissione non è stata indetta, veniamo invitati nel secondo consiglio comunale, salta anche il secondo consiglio comunale perché mancava la maggioranza. Ecco questa è come lavora la maggioranza sanna. Lavora talmente bene a compartimenti stagni che neanche loro sanno bene quando è il caso, non è il caso di fare alcuni consigli comunali. Lavorano talmente tanto bene che poi usano le leggi per arrivare oggi a fare un'ultima convocazione che è quella dell'otto, quindi del consiglio comunale dove bastano quattro consiglieri per approvare tutti i punti all'ordine del giorno che loro volevano approvare. Oltre al punto dell'IPIA il quarto punto approvazione statuto azienda speciale per la gestione della seconda farmacia comunale. Credo di poter parlare a nome di tutti i consiglieri di centrodestra che noi mai e poi mai avremmo votato questo punto perché questo punto vuol dire affamare l'azienda speciale.